state per vedere un video della serie non era una brava persona rubrica dedicata a un approccio simpatico e senza pretese alla letteratura italiana come potete vedere il titolo è seguito da una faccina con un sorriso al contrario tale faccina detta anche emoji nel cerco visuale condiviso dalla società dell'immagine indica ironia scherzo ciò è volto a sottolineare che il suddetto titolo è ironico non dissacrante non sarcastico ironico avvertenze la visione del video è sconsigliata a chi prende la vita troppo sul serio e chi non è disposto a tollerare approcci poco accademici allo studio delle discipline umanistiche peace and love guys ah quest'ultima cosa non è ironica amiamo la letteratura italiana è di una bellezza disarmante durante i primi 50 anni dell'ottocento si erano diffusi alcuni romanzi abbastanza popolari all'epoca primi tra tutti quelli di uno scrittore francese che si chiamava onore de balzac secondo questo scrittore e molti altri che si ispiravano a lui era possibile trasferire in letteratura lo stesso procedimento che avveniva con le scienze naturali cioè così come le scienze naturali possono studiare tutto ciò che compone l'universo conoscibile e quindi gli oggetti del mondo se così possono essere chiamati allo stesso modo l'essere umano le sue passioni le sue emozioni il suo codice genetico può diventare oggetto di studio della letteratura infatti onore de balzac scriveva proprio così sono dunque esistite esisteranno sempre le specie sociali così come esistono le specie zoologiche se buffon ha fatto un magnifico lavoro cercando di rappresentare in un libro l'insieme della zoologia non si poteva fare qualcosa del genere per quanto riguardava le società queste parole sono state scritte da onore de balzac nella prefazione della commedia umana una delle sue opere più celebri che avrebbe dato appunto l'avvio ad un movimento letterario particolarmente noto e che tutti gli studenti conoscono che si chiama naturalismo molto spesso denominato naturalismo francese perché appunto è un movimento che nasce in francia ci saranno degli altri scrittori di cui probabilmente vi risuoneranno un po i nomi che so flaubert l'autore di madame bovary oppure i fratelli goncourt o ancora emile zola quanti hanno sentito parlare di quel libro dal titolo così difficile da rendere l'italiano qualcuno lo ha tradotto come l'ammazzatoio qualcun altro come il macello insomma è molto difficile renderlo ecco in questi anni nasce un movimento letterario fondamentale importantissimo si chiama appunto naturalismo e abbiamo capito più o meno quali sono le caratteristiche ora voi mi starete chiedendo ma perché tutta questa pappardella se il titolo del video è luigi capuana non dobbiamo parlare di luigi capuana sì io adesso ve ne parlo di luigi capuana ma prima di arrivare a lui dobbiamo farla questa premessa perché luigi capuana rappresenta un po un ponte ha concesso ha permesso ha fatto sì che il naturalismo francese venisse traghettato in italia e diventasse un movimento squisitamente italiano anzi squisitamente regionale che noi chiamiamo verismo ha delle caratteristiche che in parte condivide con il naturalismo ma in parte sono diverse cioè ripassiamo così veloce veloce il naturalismo voleva studiare l'ereditarietà dei caratteri voleva far sì che fosse possibile attraverso la letteratura spiegare come determinati elementi del codice genetico potessero tramandarsi di generazione in generazione e questo ha degli aspetti sicuramente interessanti cioè per farvi un esempio no io la mattina faccio una fatica enorme ad alzarmi cioè io amo il mio lavoro ma per me entrare alle 8 al lavoro è una specie di incubo continuerei tranquillamente a restare a letto continuere a dormire fino alle 10 e poi potrebbe iniziare benissimo la mia giornata protraendosi fino alle 2 le 3 del mattino ecco probabilmente questo aspetto non è dovuto alla mia pigrizia del carattere ma ad una letargia congenita al fatto che probabilmente io abbia avuto una nonna con queste caratteristiche che a sua volta avrà avuto una sua nonna e poi una tre tavole così dicendo e probabilmente c'è qualche antenato della mia famiglia che nel momento in cui giuseppe garibaldi sbarcava marsala ha continuato beatamente a ronfare nel proprio letto ed era felice e così va questo aspetto del naturalismo sicuramente ci sembra interessante sembrava interessante anche ai veristi che sicuramente lo acquisiscono però poi rendono una connotazione un po' più locale infatti una delle caratteristiche principali del verismo in italia è proprio la regionalità non è un caso che la maggior parte degli esponenti di questo movimento siano meridionali per esempio Luigi Capuana che è anche il maggiore teorico e poi Giovanni Verga Federico De Roberto però ci sono anche degli altri casi perché per esempio Matilde Serao era operativa principalmente in Campania oppure Renato Fucini ecco in Toscana però nonostante i nomi di questi esponenti appartengano a realtà regionali diverse comunque la connotazione di questo movimento rimane strettamente legata ad un contesto che è molto molto locale non ci sono grandi città non ci sono grandi eventi ma piccole comunità e contesti prettamente rurali c'è poi una differenza sostanziale tra il verismo e il naturalismo cioè i naturalisti sono ottimisti in generale sono delle persone che almeno a livello teorico poi sì 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 lo sappiamo si diranno hanno tante differenze non possiamo fare tutte le rupascio io sono la prima a sostenere questa cosa però in generale comunque dovete ricordare che il naturalismo è figlio del positivismo e il positivismo che cos'è? è un movimento filosofico che ripone una grandissima fiducia nella scienza e nel progresso cosa che i veristi invece non condividono per niente perché avete presente Rosso Malpelo, I Malavoglia, Mastro Don Gesualdo lo so sto divagando perché sto citando Verga e non Capuana però se avete studiato queste cose vi ricordate immagini gioiose, felici, contente, allegre che trasmettono gioia di vivere? no, no, succedono delle disgrazie, succedono continuamente delle disgrazie perché l'idea generale trasmessa dai veristi è proprio quella del pessimismo un pessimismo che permea praticamente la realtà quotidiana e siccome i veristi così come i naturalisti non devono fare altro che raccontare la realtà così com'è senza orpelli, senza aggiungere alcun tipo di decoro ma come se fosse una vera e propria istantanea, una fotografia della realtà allora quello devono mostrare e la realtà non pare per niente bella ma a questo punto dobbiamo fare una piccola precisazione vi devo fare una piccola precisazione a cui ho già accennato prima cioè il fatto che queste sono comunque delle caratteristiche molto molto generali che le etichette tante volte sono comode sono comode perché permettono di inquadrare un determinato tema permettono di dare una cornice, di capire di che cosa stiamo parlando le etichette forniscono dei parametri, dei punti di riferimento se noi andiamo a comprare una bottiglia di latte al supermercato leggiamo l'etichetta sappiamo tante cose sappiamo i componenti nutrizionali sappiamo dove quella bottiglia di latte è stata prodotta sappiamo tante cose e questo in certo senso ci dà chiarezza ci dà sicurezza ci dice ecco, io lo so che cosa sto comprando questa etichetta mi tutela però dovete sapere che le etichette vanno bene per le cose con gli esseri umani è più complicato ci sono delle persone che ci stanno bene dentro l'etichetta perché? perché in questo modo si sentono rassicurate sanno chi sono, quali sono i propri confini ci si adattano, aderiscono perfettamente a queste pareti del confine e sono felici io sinceramente questa cosa l'ho sempre considerata estremamente castrante cioè l'idea di avere un'etichetta che mi identifica che mi dice tu sei questo mi fa mancare l'aria e secondo me è così per tante persone anche per tante persone che stanno guardando questo video che è un'etichetta addosso, non la voglio un'appiccicata e lo stesso vale anche per i veristi per cui noi diamo queste caratteristiche generali diamo queste idee generali i libri ci forniscono questi parametri di genere però siamo ben attenti a dare un parametro di genere perché non è sempre così immediata la cosa e soprattutto un'etichetta è riduzionista e non può e non deve riassumere l'immensità che c'è dentro l'essere umano e a questo punto possiamo parlare di Luigi Capuana Luigi Capuana nasce a Mineo che si trova esattamente a 50-55 minuti da casa mia era il 1839 e lui era il primo genito di 7 femmine e 2 maschi la famiglia lo fa istruire da uno zio un tale Don Antonio, pedagogo che gli fornisce i rudimenti dell'educazione peccato che alcune fonti abbiano dimostrato che all'età di 10 anni praticamente Luigi Capuana aveva un livello di scolarizzazione direi medio-basso se non proprio basso-basso questo a conferma del fatto che l'homeschooling oggi si chiama così all'inglese e va tanto di moda in realtà non sia così efficace così la famiglia decide di iscriverlo in un collegio il collegio borbonico che si trovava a Bronte, la patria del pistacchio e qui Luigi comincia a studiare con grande passione si fa infervorare dagli ideali patriottici e soprattutto comincia ad appassionarsi di letteratura infatti scrive dei componimenti poetici che viene anche invitato a pubblicare dopo qualche tempo ritorna nuovamente a Mineo e a questo punto ritorna a casa perché è affetto da una condizione di salute non particolarmente gloriosa era piuttosto cagionevole lo zio, quel don Antonio di prima lo invita a iscriversi a giurisprudenza ora questo don Antonio sarà stato pure un pedagogo ma di fanciulli non ne capiva assolutamente niente perché Luigi si va a iscrivere a giurisprudenza a Catania ma di codici, codicilli, leggi non gliene frega un pistacchio l'unica cosa che gli interessa nella vita è la letteratura infatti nel 1860 molla l'università e segue le truppe garibaldine in qualità di segretario nella città di Mineo qui rimane ancora per qualche altro tempo dopodiché parte alla volta di Firenze accompagnato dalla madre in lacrime perché non lo voleva lasciare andare via a Firenze comincia a scrivere per un giornale è il corrispondente che si occupa della critica drammatica quindi va a teatro, guarda gli spettacoli e poi scrive le recensioni comincia anche a pubblicare delle proprie opere fra cui una prima novella che si intitolava Il Dottor Cimbalus le biz della salute e la morte del padre lo riportano di nuovo a Mineo dove deve restare per sette lunghi anni durante i quali trova anche il tempo di farsi eleggere sindaco le testimonianze dell'epoca riportano in realtà che Luigi Capuana fu un sindaco esemplare che si diede moltissimo da fare per la cittadinanza ed era apprezzato da molti per il suo spirito estremamente solidale nei confronti degli altri durante questi anni nei quali Capuana fu sindaco non pensate che si occupò soltanto di questo assolutamente no perché lui era interessato a tante cose appassionato a tante cose oltre alla scrittura quindi si interessa di disegno di incisione, di fotografia, di ceramica riesce anche a pubblicare a sue spese delle poesie in dialetto di un concittadino che gli erano particolarmente piaciute studia filosofia studia le opere di Hegel e anche di De Santis grandissimo critico della letteratura italiana insomma, vi ricordate quando abbiamo avuto l'episodio su Ippolito Nievo che dicevamo che lui era multitasking perché è morto giovane quindi come se lo sentisse doveva sbrigarsi, doveva sbrigarsi ecco, Ippolito Nievo in confronto a Luigi Capuana è un bradipo ma passiamo alle faccende sentimentali perché so che vi interessano e abbiamo visto negli episodi precedenti che gli scrittori hanno vissuto delle avventure particolarmente torbide molto fosche alle volte con delle figure femminili alquanto particolari ecco, entriamo nel vivo di questo argomento con un personaggio una donna che si chiamava Giuseppina Sansone e che era entrata come domestica in casa Capuana e diventerà l'amante di Luigi questo noi lo sappiamo perché sono state ritrovate moltissime lettere una fitta corrispondenza di scritti e anche componimenti poetici che Luigi si ostinava a destinare alla sua Giuseppina soprannominata la Beppa di Don Lisi nonostante lei non potesse leggerli perché fosse completamente analfabeta e questo non è l'unico paradosso di questa relazione perché Luigi ha intrattenuto rapporti con questa donna per tanti anni lei gli ha regalato moltissimi figli che lui regolarmente assegnava all'ospizio dei trovatelli di Caltagirone e qui preferisco non fare commenti perché comunque siamo nel tema verista e quindi dovrei rispettare l'impersonalità e limitare il più possibile la mia opinione ad un certo punto Luigi capisce che questa relazione non è più opportuna e induce Beppa, Giuseppina a sposare un uomo per dare una parbenza di dignità alla sua situazione lui quindi riparte riparte alla volta di Roma e poi di Milano dove comincia a frequentare l'ambiente degli scapigliati ve lo ricordate? ne abbiamo parlato qualche mese fa abbiamo parlato di Emilio Praga di Arrigo Boito di Ginugo Tarchetti personaggi che purtroppo sono spariti per qualche strana magia dai libri di scuola ma sono comunque molto molto interessanti e io vi invito ad andare a riguardare quei video se volete una spolverata in questo periodo scrive anche un romanzo che è considerato uno dei più riusciti si chiama Giacinta ed è un esempio cardine di verismo psicologico ecco vedete come già verismo sta assumendo un'altra sfumatura particolare non è più il verismo puro verismo psicologico cioè osserviamo un caso analizzando quei caratteri psichici che contraddistinguono i personaggi la protagonista di questa storia è una donna che ve la leggo proprio la trama così come si presenta perché secondo me rende più l'idea e anzi così manteniamo meglio il senso dell'impersonalità allora vi si narra la vicenda di una donna che violentata da bambina si rifiuta di sposare l'uomo che ama del quale però dopo il matrimonio con un nobile spiantato diviene l'amante una scelta scandalosa che ne altera l'equilibrio psichico e la induce infine al suicidio ora è evidente che per scrivere questa cosa Luigi Capuana si sia ispirato ad alcuni modelli che provenivano dal Tralpe quindi Madame Bovary le opere di Balzac indubbiamente l'opera riscosse una certa approvazione può essere in qualche senso considerata anche come quasi programmatica di quello che lui aveva intenzione di fare anche se l'idea vera e propria di quello che è il verismo Luigi Capuana ce la consegna in un saggio dal titolo Come io divenni novelliere e qui vi leggo perché c'è proprio l'idea di che cos'è il verismo in modo che le sue parole sono sicuramente più chiare delle mie dice Capuana naturalista verista il nome mi preoccupava poco dicendo naturalista verista tanto per farmi intendere dagli altri volevo significare che secondo me nel mettersi a scrivere delle novelle o dei romanzi bisognava badare affuggiare quest'opera d'arte giusta la sua ultima forma provvisoria anch'essa ne convenivo tanto che cercavo anch'io nella misura delle mie deboli forze di svolgerla d'ampliarla o perlomeno di ripulirla attenzione togliendone via quanto ancora rimaneva in essa di fronde inutili di rami morti ecco cosa deve fare il verismo raccontare ciò che è ma non è tanto ciò che è è il modo in cui questa narrazione viene effettuata raccontare togliendo tutte quelle foglie morte quelle fronde inutili che non fanno altro che decorare un po' no art nouveau stile liberty si chiamava in Italia dare un aspetto piacevole alla vista appagano il gusto estetico ma non sono funzionali sono inutili vedete che grande differenza c'è enorme sostanziale tra il decadentismo figlio dell'estetismo e il verismo che pur son coedi quindi convivono più o meno nello stesso periodo ma andiamo avanti intanto Luigi ritorna di nuovo a Mineo sua croce edilizia perché fa un po' di qua un po' di là vedete che dalla Sicilia non si può mai veramente liberare ma questo ve lo posso assicurare per esperienza è un gioco dal quale non riesce a liberarti mai nemmeno se vai a vivere dall'altra parte del mondo la Sicilia te la porti sempre dietro nel sangue conosce De Roberto e prende anche le difese dei Malavoglia di Berga che intanto era stato pubblicato nel 1881 e aveva incontrato una marea di detrattori non erano molti coloro che avevano apprezzato i Malavoglia di Berga il 22 aprile per rinfrancare l'amico Giovanni Giovannuzzo perché qua da noi si dice così e ve lo posso dire proprio ve lo garantisco che cosa fa? scrive qualche riga per rassicurarlo per dirgli che i Malavoglia non è un'opera brutta così come dicono tutti e scrive così i Malavoglia non sono un fiasco il fiasco in questo caso lo fa il pubblico e la critica che si ricrederanno presto come accade con i lavori che escono dalla solita carreggiata e che hanno elementi di grandissima vitalità per me i Malavoglia sono la più completa opera che si sia pubblicata in Italia dai Promessi Sposi in poi io lo so che sui Malavoglia così come sui Promessi Sposi c'è un'ampia crepa da una parte gli estimatori e dall'altra continuano ad esserci tuttora i detrattori ma ciò non toglie che si tratta comunque di due grandissime opere della letteratura io sono pienamente a favore ho amato i Promessi Sposi lo ammetto quando l'ho letto da grande non quando l'ho letto da adolescente e ho amato fin da subito i Malavoglia quando l'ho letto per la prima volta avevo 17 anni e per me è stato un colpo di fulmine però ritorniamo a Capuana io qua ho il diavoletto di Verga che mi continua a dire parla di me parla di me parla di me ma non è il tuo momento non è il tuo momento arriverà il tuo momento ma adesso lasciamo spazio a Luigi in questi anni Luigi che cosa sta facendo? sta iniziando a raccogliere una copiosa produzione di letteratura folcloristica fiabe popolari noi abbiamo una collezione incredibile di fiabe popolari siciliane che sono state raccolte da Luigi che aveva anche un certo interesse di carattere antropologico in questo senso e sono molto interessanti perché tante volte sapete le fiabe hanno un carattere didascalico delle pretese educative ti racconto questa fiaba il bambino perché così impari a comportarti bene ecco questo è un po' lo spirito collodiano che non è assolutamente quello di Capuana e non è nemmeno l'intenzione ultima delle fiabe perché ricordatevelo le fiabe sono estremamente cattive Capuana invece ha una passione smodata nei confronti del fantastico di ciò che alberga nel mondo dello spirituale dello spiritismo dell'occulto dell'esoterico e qui ci addentriamo in una delle pagine più curiose della vita di Luigi Capuana che non so se tutti sapete perché appunto Luigi era un grande appassionato di spiritismo magnetizzatori ipnotizzatori spiritisti lui viaggiava per andarli a consultare per farsi fare delle sedute per comprendere i segreti di questo mondo occulto esoterico che lo ringalluzzivano perché per lui era qualcosa di incredibilmente fascinoso e siccome aveva anche la passione della fotografia mettendo insieme queste due cose non avete idea di che cosa è venuto fuori e vi faccio qualche esempio Luigi Capuana amava fotografare cose morte andava alla ricerca di fantasmi partecipava alle sedute spiritiche una volta questa storia molto famosa nel paese morì una bambina piccolissima che si chiamava Rosina Carcò di Stefano questa storia ce la racconta Federico De Roberto la famiglia della bambina non era una famiglia agiata non era una famiglia ricca e quindi non avevano potuto permettersi di farle la fotografia prima che la bambina morisse erano ovviamente distrutti dalla perdita della piccola e allora Capuana decise di fare loro un regalo riesumò il corpo della bimba lo tirò fuori dalla bara le aprì gli occhietti la appoggiò ad un alberello del cimitero e le scattò una bellissima fotografia per immortalarla in questa posizione dare per sempre l'illusione che lei stesse serenamente riposando non so voi ma io la trovo una cosa terribilmente macabra e non pensate che sia l'unica che lo faceva solo con gli altri no l'ha fatto pure con sua madre quando è morta sua madre la madre di Capuana ha ben pensato di farle una bellissima fotografia post mortem l'ha messa sistemata lì con un fazzoletto in testa ed ha questa espressione di una donna pacifica che sta riposando e invece già in stato avanzato di decomposizione non è finita non è finita a proposito di cose creepy come ci piace dire aveva questa mania anche dell'ipnotizzare gli altri che è una pratica sicuramente con delle sue fondamenta io non ho alcun tipo di dubbio anzi l'ho anche provata su me stessa e l'ho trovata estremamente interessante però forse lui non aveva del tutto capito come fare fatto sta che lui sottopone una ragazza giovanissima una diciottenna e Fiorentina a questa ipnosi evidentemente però nel processo qualcosa va male perché questa ragazza comincia a correre come una pazza per l'appartamento sostenendo di essere stata posseduta dallo spirito di Ugo Foscolo e poi dico io ma perché Ugo Foscolo perché proprio Ugo Foscolo non poteva essere qualcun altro no lei viene impossessata dallo spirito di Ugo Foscolo nel 1887 sempre per restare in tema di cose strane spedisce a Gabriele D'Annunzio con il quale era diventato conoscente nel frattempo una sua foto nella quale si finge morto seduto in poltrona gli occhi spalancati all'indietro le mani contorte che si stringono l'una con l'altra io penso che Gabriele D'Annunzio abbia fatto un sorrisetto e abbia detto guarda io che sono il grande plagiatore sono stato plagiato perché ve lo ricordate che il rapagnetto aveva raccontato quella storia che lui si era finto morto l'avevano detto sui giornali ma in realtà lui non era morto ecco se vi interessano altre curiosità su Gabriele le trovate nel video dedicato a lui che vi lascio qua sopra nel 1901 dopo quasi un ventennio di gestazione viene finalmente pubblicato quello che i critici considerano il capolavoro di Luigi Capuana un libro che si intitola il Marchese di Roccaverdina questa storia ha un caddy autobiografico ma anche degli elementi legati a questa tradizione del superstizioso e del rancore che alberga nella vita primitiva dei campi il protagonista è appunto il Marchese di Roccaverdina tale Antonio Schivardi che per diverso tempo ha intrattenuto una relazione clandestina con una donna cosa ci ricorda questa storia un po' la domestica vi ricordate la Beppa di Don Lisi bene ancora a maggior ragione ce la ricorda perché ad un certo punto Antonio Schivardi decide di fare sposare questa donna ad un fattore per poter avere insomma una copertura a questa sua relazione che non era assolutamente tollerata all'epoca lui era un Marchese lei era una donna del popolo ma questo matrimonio deve avvenire a delle condizioni molto particolari nel senso che si fa promettere sia dallo sposo che dalla sposa che tutti e due non consumeranno il matrimonio insomma devono dormire in letti separati la cosa sembra andare bene per un po' di tempo ma il Marchese non si fa convinto questa è proprio un'espressione nostra è bellissima e allora che cosa fa? continua a pensare nella sua testa che questa promessa sia stata violata e comincia a farsi un sacco di flash perché si convince che questi due in realtà sotto sotto si stiano incontrando e quindi lo stiano facendo fesso al che non riesce più a resistere l'ossessione lo sta divorando va a uccidere il fattore di questo omicidio però non si rende responsabile insomma non confessa di averlo ammazzato lui ma la colpa ricade su un contadino a questo punto il rimorso comincia a rodere la coscienza di Antonio che non riesce a gestire il fatto di aver fatto ricadere terribile gioco di parole perdonatemi la colpa su un'altra persona questo rimorso continua un lavorio interno profondo che gli rode l'anima che lo fa sentire talmente tanto in colpa che ad un certo punto l'unica strada per lui rimasta aperta è quella della pazzia vedete come questi elementi hanno un'origine piuttosto lontana non vi risuona niente non vi richiamo un po' quel tormentato dolore che affligge il protagonista di delitto e castigo Raskolnikov ecco questi echi che provengono da lontano vengono rielaborati proprio da Luigi Capuana questi sono gli ultimi anni della sua vita sono anni in cui lavora a Catania lavora all'università di Catania ottiene una cattedra nel 1908 e si sposa finalmente ma anche qui questo matrimonio guardate che ha dell'allucinante perché praticamente sembra una storia uscita da un libro di narrativa lui incontra questa donna e la incontra in questa circostanza in pratica dopo il tentato suicidio di lei e decide di recuperarne la sanità mentale sposandosela Giovanni Verga fu il testimone di questo matrimonio che si celebrò appunto a Catania e da quel momento in poi Luigi Capuana continuò a scrivere soprattutto opere per il teatro pensate che Ubaraninfu è una delle opere teatrali tuttora più allestite e replicate nei teatri siciliani Ubaraninfu altro non è che la storia di un uomo che è di mestiere che fa questo cioè sistema coppie cerca di collocare dei legami matrimoniali è un po' la versione siciliana di Emma di Jane Austen Luigi Capuana viene conosciuto anche al di fuori dell'Italia lo conoscono in Europa viene apprezzato da D'Annunzio da Verga appunto con cui era amico da Pirandello da De Roberto da Croce lui stesso ammira il futurismo dice che se fosse stato 50 anni più giovane probabilmente avrebbe seguito queste fila lavora fino all'età di 75 anni zitto zitto e buono buono e noi che rimbruttiamo che la pensione sta andando sempre più avanti pensate fino a che età lui stava lì all'università a insegnare e poco tempo dopo muore lui muore esattamente nel 1915 nel momento in cui l'Italia entra in guerra di cosa? sinceramente non lo so ma sono sicura che se ne avesse avuto la possibilità si sarebbe fatto un bel selfie nella bara e ce l'avrebbe spedito a noi oggi per farci venire un po' i brividi spero che questa presentazione di Luigi Capuana vi abbia incuriosito abbia aperto delle opportunità di nuove letture perché vi assicuro che i suoi romanzi sono molto interessanti e sono sorprendenti Giacinta e il Marchese di Roccaverdina in particolare e io vi saluto noi ci vediamo con un prossimo video questa settimana e prossimamente con un nuovo Non era una brava persona ciao